Le punti, qui riportano le ossa, i resti dei nostri cari, però noi crediamo che loro, le loro anime, il loro spirito, la loro coscienza, sono in Gesù risorto. Dove c'è Cristo risorto ci sono i nostri cari e allora chiediamo a Gesù che possa accogliere nel suo regno, nel suo paradiso, tutti i nostri cari defunti. Riprendiamo in silenzio e in preghiera il nostro cammino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Preghiamo insieme dicendo Maria, donna eucaristica, intercedi per noi Maria, donna eucaristica, intercedi per noi Per la Santa Chiesa, perché fortificata dal pane di vita Cammini nelle strade del mondo Annunziando con le parole e con le opere Il Vangelo di salvezza, preghiamo Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Francesco Il nostro Palloco Don Bernardo E per tutta la Chiesa Ministeriale Perché siano importanti